Voi sapete, io sono un amante degli stall, e allora proviamoci lo stall del momento, che vi dico la verità, a me non è che stia proprio convincendo, però eccoci qua. Tinglu, Rocky Helmet con Don Dozo, Yon, ma c'è anche un interessante Dragonite Assault Vest da pompare rigorosamente con Gonjimfire, che aiuta anche un Chienpao ed un Flatterman a chiudere il cerco per dare anche un pizzico di specialità in tutti i sensi al team, dato che abbiamo bisogno un po' di un attacco speciale, dato che se no tutti i Pokémon sono fisici. Cosa vogliamo fare? Trappare con Sambiatomba, fare danno in diretto con Sambiatomba, trappare dentro la gente che non può switchare e magari anche tenerla sotto il gioco dello sbadiglio, della maleducazione di Don Dozo, e poi piano piano finirli nel late game con coloro che abbiamo detto, ossia Gonjim, Chienpao e Dragonite. Vi ricordo, cari amici, che è partita anche questa super promo su Level Up, avete il 2x1 con il codice sconto Pardini, è uscita la Okiru Edition, per celebrarla, veramente molto buona, peraltro perché è Grapefruit più Lime, ok? Quindi polpenmo e Lime, bella, asprina, fresca, estiva, come piace a noi. Quindi 2x1, ossia prendete 4 prodotti, ne pagate 2, ne prendete 8, ne pagate 4, ne prendete 16, ne pagate 8, ne prendete 32, ne pagate 13 e così via, ma dovete mettere il codice sconto Pardini, io al primo commento vi lascio il link. Detto questo, partiamo, iscrivetevi, lasciate un mi piace, tutte cose che già sapete e andiamo un po' a stallare. Peraltro siamo anche alti in ladder, vediamo cosa succede. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione. Proviamo la stallata, ma prima lasciate mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale perché qua c'è un Flatterman e un Urshivu che vogliono forzare un posto di blocco rappresentato dalla Tinglu Tinglu Tinglu, che deve fatta era Poison, raga. Ehm, non è il top, me ne rendo conto. Allora, lui si piglia Nevisland. Subito. Perché? Perché no? E di qua si fa catastrofe, sperando Poison, Poison. Andiamo. Andiamo. Questa è una coppia veramente vile, eh. Dondoso Tinglu ce la siamo trovati contro anche in live. Che, insomma, è uscito sto team qua. Dondoso, Tinglu. Io vi dico la verità. Non amo particolarmente, l'ho già provato, l'ho anche portato, ma una partita da VCL. Molto sfortunata, se ci ripenso effettivamente che avrei vinto se non fossi stato sculato. Però, comunque, dall'impressione che domini, domini, stalli, stalli, po' perdi. E quindi, proviamolo insieme, proviamolo insieme perché può essere veramente molto simpatico. Dobbiamo terarla qua, Poison, ovviamente, per non prendere Moonblast Surging. Se lui fa U-Turn e ci ha voluto, come dire, triggerare la terra, a noi non è un problema. Ah, se addirittura fa questo, è perfetto perché si prende i rochi e il mettini. Ecco, lui, lui, lui c'è proprio cascato con tutte le scarpe, ragazzi. Dopo c'è cascato con tutte le scarpe. Perché ha preso lo Yermet, ha preso tutto. Questa fa un cinquant... Sì, vabbè, insomma, 25-50% E questo, fium! Lo vediamo, Flutter. Buono! Adesso, se mi entra di Lando, rischia... Wave crash, wave crash, wave crash. Wave crash. Forza, forza, forza. La partita è cominciata bene, eh? Poi Dondoso, con Tinglu accanto, è di una resilienza allucinante. Dondoso non intimidibile, non tauntabile. Perché ha Oblivious. Che sbaglio sempre, se è indifferenza... Non è... Mi sono inglese? Entro oggi, eh? Giovane Baldo, giocatore di U-Chi, fu fatta bene, protesamente. Noi dietro abbiamo Dragonite e Gojing. Quindi avergli seccato lui... È comunque eccezionale. Io direi, qui si entra di Dragonite. Non sto a sacrificare il Tingulo. Ushifu non glielo tocco, perché tanto alla fine della fiera... sta sotto String Speed. Lui è probabile che vada di Air Power là, ecco. Però... E noi si va di wave crash a destra. In questa partita non abbiamo dato sfogo, quantomeno per adesso, di quella che dovrebbe essere la strategia principale, cioè sbadiglio più sabbia somba. Il nostro avversario sostituisce Ushifu, giustamente. Entra Regino Boltino, tutto il quale... In glù non più terra, eh? Però comunque farà come. Attenzione, protegge. Barlume di... Barlume di ottima giocata, a parte il nostro avversario. Noi qui... Si va di squamacolpo su Reging. In sbadiglio. Non mi facesse Thunderclap. Eh, vediamo la verità. Non mi facesse A-Clap. Potrei quasi ributtare... Team Glue. Per garantirmi una maggiore resistenza. Sì. Tanto Air Power nella Zod Dragonet non me lo fa. Collando male male mi ci fa Sludge Bomb. Se mi ci fa Drago Pulsar, Dondoso non ha preso... Fulmine. E così vediamo anche lui se terra qualcosa. Perché qui lui potrebbe voler terra... Lando per non essere più debole... O terra Reging per non essere debole a... A Drago. Quindi squamacolpo, che era la nostra prima opzione... È stata giustamente scartata. Buono. Vabbè. Abbiamo fatto bene a mettere il Team Glue, ragazzi. Molto bene. Molto bene. Ok. Non lui toglie. Lui toglie, poi rientra... Cioè, toglie Prothet... Dobbiamo fare anche... Abbiamo ripreso Bomb. Non ho... Non ho... Non ho motivo di fare... Heavy Slam. Tanto per togliere il Zab. Straproteggerà, però... Come vedete, anche questa partita è cominciata molto bene, eh. Eh, il late game non sarà così facile. Attenzione, ragazzi. Lui decide di andare a letto. Che non toglie. Non toglie. Ci secca d'oso. Però non va a letto. È una giocata interessante, eh. Allora. E come vedete, ora lui sotto sub, ci fa il Power Morto e il Power Morto. E... È un casino, ragazzi. È un casino. Allora. Allora. È un casino. Devo buttare Team Glue qui per reggere il Power. E fare marchia fuoco. E gli tolgo quantomeno il Zab. È esattamente... Poi magari sono io che non lo so giocare e ci sta assolutamente anche quello. Però è il classico team che quando ti trovi contro... Veramente fastidioso. Però poi alla fine, se ci pensate, spesso ci vinci. Contro. Intendo. Così come quando lo usi... Poi basta che tu missi un sabbia tomba. Una catastrofe. Sei un po'... Esattamente con la Team Glue d'ondoso passivo, no? Attacchi per secondo ti prende un fulmine. Però noi ci proviamo, eh. Perché comunque... Non è finita, però è chiaro. Molto difficile, ragazzi. Ah, è andato di fango bomba. Ha pensato che noi proteggessimo. Allora, ha avuto un buon turno gratis per noi. Io vi dirò. Qui penso che andrò di... Catastrofe. Il fatto è che, cioè... Siamo... Siamo un po' nelle mani di questo... Reginbolt. Si sveglia bene, se non si sveglia. La Drago Puzza... Insomma... Non bene. Andiamo di marchio a fuoco dritto per dritto. È molto probabile che lui protegga, però. Capite, guardi? Comunque, finché c'è Team Glue... Un attacco, Gojinn me lo regge. Vediamo se lui dorme. Lui dorme. Vediamo se il Catastrofe entra. Il Catastrofe entra. Poi abbiamo trovato anche quello con un Fulmine, eh. Che non è neanche Stragommon. Se si riuscisse a tirare giù lui... È che marchia fuoco. Non gli fa un cazzo, ragazzi. Niente, proprio. Attenzione. Attenzione. Errore da parte del nostro avversario che avrebbe dovuto pusciare con Lando. Ha avuto paura... Ve l'ho detto, non gli si fa niente, ma è il meglio che potreste offrire la casa. Ha avuto paura... Che noi potessimo... Con marchia fuoco segarlo. Ecco, qui insomma la mia tomba è fondamentale, eh. Perché gli facciamo questo danno ridicolo. Lo trappiamo e poi c'è... Il 12% di fine turno. Più che altro l'abbiamo portato in range di stream speed. Io vi dirò... Potremmo addirittura fare... Potremmo addirittura fare... Che noi con bampe... Sono sempre più veloci, però di hit crash non lo chigliamo. Proviamoci lo stesso. Dobbiamo chillare. Ciò vado a fare. Partite molto lunghe. Se ne farà due in questo video. Questa vabbè... Saetta più su oggi di tutto lì è una roba... Coraggiosa. Ovviamente non killa mai. Qui il top sarebbe che hit crash ci rolla piacevolmente alto. Via giù reginbolt e body press va di là. Ok. Ma più o meno questo danno gliel'avevamo fatto prima. Non c'era bisogno di roll. Sta partita ce la porteremo a casa. Vero. Complice anche il nostro avversario che si è fatto veramente... Pisellare subito Flapperminturno 1 dai B-Slam. Citazione dei commenti. Pisellare. Non solo il link per l'hubb lap, per il 2x1. Anche voglio sapere la vostra su pisellare. E però... Insomma, dragonetta V lo do per assolutamente... Fatto contro... Controllando. 1-0. Spartiamo con il piedino giusto. Bene. Bene. Bene così. Bene così. Mamma mia però che fatica. Che fatica. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dobbiamo ancora sabbia tombare e sbadigliare. Sabbia tombare e sbadigliare. Sabbia tombare e sbadigliare. Qui... Il match-up è no brutto. Di più. Terrificante. Però... Questo offre la casa. Perché... C'è sia Arcaudon che Abrondung. Inoltre è stata tirata fuori anche Ushifu. Grote. Allora... Io direi dentro Doso... Dove quasi proteggere. Oddio... Se faccio... Beanswipe... Più... Terra... Sacred... No... Ma non ci arrivo. Se non ci arrivo. Blu Piao. 13 lead. 13 lead. Rigidone. Mi fa su Jing su Go Jing. Che devo di? Rischia perché... Terra Stella Arsare. Zord. Su Arcaudon. Fa maluzzo. Sta levando. E mi butti. Blando. Godo. O meno. Mi devi però avere attaccato la slot di Dondoso. Ciccino. Che se io ti la faccio il crash. Su Arcaudon che è normalmente efficace. Certo. Abbiamo capito. Abbiamo capito l'entità, come dire, del nostro avversario. Abbiamo capito con chi abbiamo più o meno a che fare. Benissimo. Sempre fa piacere giocare contro questi ragazzi. Lui se ne va. Entra Arcaudon garantita al limone. Infatti io gli potenzio la difesa. Va bene. No, l'ho tornato. Sono ottimo. Però faccio pasto. E sbadigliazzo. Allora, abbiamo i quattro. Terremoto. Mi puzzi di cibi. Tiene una maniera... Bene. A meno uno fa questa roba. Sei ufficialmente cibi. Lui che fa qui? Doppio switch? Lui fa il doppio switch qui. Penso, Arcaludon. Così fa doppio switch. Io continuiamo a fare Ion vita natura durante. Cosa me ne faccio? Un gran cazzo. Che coglioni. Niente ragazzi. Se provo a fare... Qui lui mi... No. Non switcha. Attenzione. Attenzione. Allora. Mette il vento in coda. Però Tornado sva a letto. E lui ha perso Lando. Sempre che un ciclitti. Che chiaramente c'è questa opzione. Per perdere la testa. Ok. Abbiamo scelto bene. Abbiamo scelto molto bene. Ora però lui è sotto Tailwind. Vero con un Pokémon addormentato. Però sotto Tailwind. Niente a riuscire a fuccare. Quando mi mi sdraia... Quando mi mi sdraia... Dondoso. Se no prende Yon. E non ne esce più. Adesso mi fa fuori golinger. Allora lui dorme. E invece fa... Secondo me la scelta è sbagliata. Però... Anche perché Bumpaguzze... Lo temi con Arcaludon? Non penso. Ok. Tingulo. Tingulo. Che lo so. Suona come una minaccia ma... Perché se dentro di Scempoldo... Mi fai vedere. Questo Scempoldo sta un po'... Bulchicchiato. Se dentro di Scempoldo... E lui rimane e mi fa surgire. Io come se perdo Scempa ho perso. Dice sì va a dormire. Ma che me ne fa? Quindi... Va bene o so. E noi vi si senta lo sbadigliasso. E il sabbiatomba. Perché se se ne va... Entra Arcaludon. Sabbiatomba ha sbadiglio. E lui è trappato. E andrà a letto. Se rimane con Urshifu... Ci va a letto perché ha preso sbadiglio. Più sabbiatomba. Quindi peraltro rimane lì a macerare. Allora è buono per il nostro. Vedi rimane. L'uno che rimane. Uno che non... Sta al gioco del Ion senza ciclare. Che ci sta? Per l'amore del Giel. Ma non voglio ordine. Come mi fotte Don Doth. Ragazzi è lì lì eh. Perché ci fa 17 a colpo. Attenzione. Ci ha fatto 16 ora. Ha fatto 17. 16, 17. Al pelo. Fondamentale qui che entri questa. Per favore. Ragioniamo un attimo. Mi conviene. Seccare lui con scaglia a gelo o spada solennare a destra. Perché qui cambia proprio la partita. Se non ammazza Tornadus. Poi gli mette Tailwind. Vince con Arcaldon. Meglio schiacciacorpo. O Catastrofe. Catastrofe fa un pelo di più. È un po' più rischi. Ma sono nella situazione di dover rischiare. Perché lui si sveglia. E' un presto apurale. Che mi sia su Chen Pao. Ma anche su Tinglu. Però calma perché ci serva niente se noi iniziamo a Zero Trash. Un pizzico di fortuna va. Anche più di un pizzico. Uh mamma mia. Lui non ha più il vento in codazzo. Bene. Queste partite te le devi fare così. Calvino. Ti immagini andare a fare un torneo? Sì. Ma nemmeno pagato. Allora. Noi ci può anche fare Sbigo. In realtà. Sbigo. E Sbigo. È la cosa che mi piace di più. Perché tanto. Lui era Terra. Quindi. Che non prende Sbigo. Terra è elettro. Può fare di più di elettroraggio. Vabbè. Peccato non abbiamo Stomping. Ma qui non muore. Però muore. A fine turno. Di. Di Sabbia Tomba. Se sei Terra elettro. Vuoi dire che sei Power Herb. Mamma mia ragazzi. Che vergogna proprio. Ci voleva scammare. Dunque. Anche al metodo. Della Voiding. Di Bleak Wind. Facciamo conto. Che noi qui non abbiamo evitato. C'è un Pao muore. Noi con Team Blue. Sabbia Tomba. Siamo. Siamo safe. Nell'1v1v. Ok. Tanto questo è il danno. Mi potete di Sabbia Tomba. Più. Turbinino per l'1. E poi. Turbinino anche per quell'altro. Bom. E ora. A noi si fa. Il Bico. Il Body. Che si rischia. Che si rischia. Di peraltro. Come potete vedere. Non è Stamina. Perché. Già dal lit di. Sabbia Tomba. Non aveva. Preso il più. Uno in difesa. Quindi. Proprio easy peasy. Se lo fosse stato. Se andava di spadato lento. E qui. Andiamo a fare. Il crit. Pardiniano. Pazzesco ragazzi. Va bene. Va bene. Io. Voglio finire questo video. Prima della pensione. Quindi non farò il terzo game. Vi aspetto però. Se avete ancora voglia. Di BGC. E sono convinto. Che ne avete. Oggi alle ore 18. Su quello viola. Venitemi a trovare in live. Venite a partecipare. A seguire le live. Francesco Pardini. VGC. Su Twitch. Scaricate l'app. Se non ce l'avete. Marema Ladra. Inoltre potete anche contribuire. E permetterci di finanziare. Tutti i nostri progetti. Se avete anche magari un account. Amazon. In famiglia. Lo collegate. E vi abbonate. In maniera gratuita. Peraltro ci sono. Un sacco di reward. Allucinanti. Sul canale Twitch. Perché avete una ladder. Best of 3. A lista aperta. Con classifica. E premi mensili. E avete. Tre volte a settimana. Lunedì. Martedì. Mercoledì. Dalle 21.30. Alle 23.30. Allo sportello competitivo. Insomma. Dove ci sono dei ragazzi. Che nel canale Discord. Vi aiutano. Per muovere i primi passi. O andare ad affinare. Le vostre arti. Già magari. Un pelo più advanced. E di competitivo. Detto questo. Signori miei. Io vi mando un bacetto. E vi ringrazio per l'attenzione. Che mi garantite. Settimana dopo settimana. Ci vediamo come detto. Giovedì. Per un nuovo video. Oppure oggi. Come tutti i giorni. Del resto. Alle ore 18. Duque la viola. Ciao.